Capitan Fazio, seconda vittoria consecutiva, siete primi? Primi sicuro, non so se è più o meno a pari media con qualcun altro o qualche pezzo di punto sotto, però con due vittorie di fila del genere siamo più che soddisfatti Tremble la vittoria oggi contro Giaccavallo Giaccavallo è una squadra che tenevo molto, soprattutto perché c'è il grande Stefano Motica che ha giocato benissimo, però come squadra siamo riusciti a batterli Però voi siete... eravate superiori al loro? Beh diciamo che loro hanno una certa età, soprattutto Stefano ormai non si regge a più Eccolo il tuo gemello qua Ormai Stefano Motica è un anzianotto, quindi non è colpa sua Migliore in campo oggi? Migliore in campo è la coppia delle triplette Magaluso con il Iago Vito Barone che va crescendo di partita in partita Comunque tutti abbiamo fatto un partitone Ok, però per i due gol che abbiamo preso Prossimo turno sempre più insidioso per il Porto Palo, 5-3 di Salemi Facciamo diventare 4, uno l'ammazzo io Addirittura Il fucile è pronto? No, che fucile? La gambetta, inquadra la gamba di legno Ho capito, ho capito Va bene capitano Complimenti per la vittoria e ci vediamo al prossimo turno Ciao la cinta Contaci Ciao Federico, ciao